Vediamo se effettivamente il governo tiene conto in questa prima istanza delle osservazioni che hanno posto sul decreto a Catania. Una ci pare di capire che non viene ripresa da quella delle intese perché abbiamo chiesto la modifica del decreto a Genova che aveva escluso nelle giorni dal controloggimento della definizione delle ordinanze. C'è stato il segretario che ha detto che questa non la imprende. Abbiamo insistito molto sulle norme e sulla semplificazione per le opere economiche e anche per gli interventi. Su questo c'è stata un'apertura, vediamo che effettivamente si concretizza la prossima ora e quindi una riunione che imponiamo importante e interlocutoria per la verifica dell'atteggiamento.